Visto che dal nulla probabilmente chi mi conosce ha pensato che cacchio sta facendo questa pazza, si è messa a parlare di cose apparentemente inusuali davanti a una telecamera. Allora partiamo dal principio. Chi sono, cosa faccio, cosa ho. Non mi piace distinguere tra l'essere e il fare. E sono le cose, i due verbi insieme all'avere, quindi i tre verbi che confondiamo. Per quanto riguarda chi sono non lo so neanche io. Lo sto ancora cercando di scoprire. Come disse Socrate, conosci se te stesso. Per quanto riguarda cosa faccio, voi mi vedete qui che parlo a Vamera probabilmente. Sono una ragazza, studio all'università come molti miei coetanei. Ho iniziato da un paio d'anni a pormi qualche domanda, che di solito non è così usuale trovare qualcuno che si ponga qualche domanda. Dopo una crisi che ho avuto di ansia e panico e di pseudodepressione, ne sono uscita iniziando a cercare nella vita il significato delle cose che accadono. A cercare un significato più profondo di tutto questo, di tutto quello che ci circonda. Quindi per chi vede questa serie di video, che potrebbe essere anche l'ultimo magari questo, non ne ho idea, non so neanche io perché li sto facendo. Sento solo che sta iniziando a piacermi nel farli. Ho molta paura nel farli. Ve lo assicuro, non è semplice star qui a parlare davanti a un mezzo sterile che una telecamera. Però sento che c'è qualcosa di importante, soprattutto in questo periodo, da far passare. Quindi perché sto iniziando a fare queste cose? Non mi piace dare spiegazioni e tantomeno mi piace parlare di me. Potrei dire di non essere nessuno, come Ulisse lo disse a Polifemo per poi uscire dalla grotta. Non sono nessuno, mi chiamano gli altri, Loreno, ma di per sé non c'è nessuno che vuole fare queste cose. Queste cose vengono da sé. Vengono da sé e se certi argomenti non vengono trattati in periodi critici come questi, penso che andremo alla deriva. Quindi perché sto facendo tutto questo? Non lo so neanche io, ma so solo che mi sono domandata che cosa mi manca. Che cosa mi manca che il mondo esterno non mi sta dando. Sicuramente non mi manca il poter conoscere, il poter farmi una cultura. Andando all'università, il conoscere come le cose avvengono è semplice. Ma il perché le cose avvengono è questo che manca. Almeno personalmente è questo che mi manca. E quindi sentendo questo vuoto, sentendo questa mancanza di significato dietro le cose che ci accadono, ho detto inizio a fare qualcosa che vorrei sentire io in primis. Io vorrei che qualcuno parlasse di queste cose di cui io sto parlando. Solo che non le ho trovate. O almeno le ho trovate, ma non in modo così forse sintetico, così diretto. Ecco, forse è per questo che sto facendo tutto questo. Può essere che questo sia l'ultimo, come l'inizio di una serie di questi video, non lo so. So solo che vivo questa giornata, questa serata, questo presente e chi mi vorrà ascoltare mi ascolti. Grazie.